Di nuovo un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info Video in full HD Da HTC One M9 Vedo che come al solito fatichiamo un pochino sul focus E' una situazione piuttosto luminosa quella dove stiamo filmando Qui i lampioni sono molto forti In questa piazzetta Che in realtà è lo stesso luogo dove abbiamo fatto i video Con Lumia 640 e 640 XL Vediamo il ragno che lavora E andiamo a rompervi le scatole col flash Vediamo se sto provando a forzare il focus manualmente Guardate che belle riprese che vi regaliamo Ecco dal display del telefono qui sembra piuttosto positivo Ora qui ci spostiamo sulle piante con luce a led E senza luce a led Mi avvicino per fare una macro E vedere cosa il telefono riesce a combinare Perfetto In questo caso ecco che il focus è adeguato Benissimo Mi sposto dove l'altra volta avevamo avuto più problemi E poi chiudo il video Sempre da M9 Sottoluci LED Un saluto da Formovirus Grazie